Allora, le mani così! Con l'orgoglio feri di chi poi si rivela, ma quando ti arrabbi sei ancora più bello, e così sui tuoi piedi io sarei liquida. Ma vittima sai che un bilancio è sbagliato, se un uomo tradisce a metà, per cinque minuti e non è più qua. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, ti sembra un po' caro il prezzo che a te gli sto preparando. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, tutto quello avanti, tutto il nostro passaggio. Non ci busco! Non ci abbraccio ogni cosa e parliamo ne un po' non ci abbraccio ogni cosa e parliamo ne un po' ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andare via, a saper ritornare. Se mi lasci non va, 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 non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, dentro quella valis, tutto il nostro passaggio. Non ci busco! Se mi lasci non va, Se mi lasci non va, se mi lasci non va, non puoi la ballista, tutto il nostro casale. Ma così, oggi non mi so. La ballista sull'ecca, quella di un lungo via, e tu senza di niente hai trovato il colato, con l'orgoglio ferito che poi si rivela, ma quando ti arrabbi sei ancora più bello, e così sui tuoi piedi sarei liquida. Ma vittima sai che un bilancio è sbagliato, se un uomo tradisce, tradisce a metà, per cinque minuti io non ne ho più qua, se mi lasci non va. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, mi sembra un po' caro il prezzo che a te, e sto per parlare. se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, Tutto quella va a me, tutto il nostro passaggio, non ci busco. Ti appreso ogni cosa e parliamo ne un po' Noi errori ne ho fatto, ne compre ne ho Ma quello che con tra e pire e pare, sapere alla vita, a sapere mi tornar, semplice e non vale, semplice e non vale, semplice e non vale, semplice e non vale. In mexico su assistirali su a svetske noge mette, e dali misliš ti da može biti ovo isto Argentina sa Jugoslavina sa tobom? Non mi chiedo chi se truda da igram o più, ma anche la nostra voglia e da oti... Non mi chiedo che voglio parlare più meglio, ma non c'è mai il gioco. E non mi chiedo di andare da l'escalina e poi da farci la medalare. Credo che abbiamo un'equipo che si può classificare e che può arrivare fino al finale.